Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben ritrovati con Trading Power. Attenzione che ci sono delle interviste importanti. Poco fa c'era il segretario di Stato Miuscin del tesoro, non del Stato, tesoro del tesoro, caro mio tesoro Miuscin, che ha detto anche Trump la dichiarazione di ieri sul fatto che Cina e Cina, Cina e Russia stanno svalutando la propria moneta. È stato one shot, è stato giusto un warning, un avviso. Insomma, come vedete, ci sono già tante cose di cui parlare. Cominciamo con Trading Power, che c'è anche un grandissimo ospite. Andiamo con la sigla. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben ritrovati con Trading Power. Tutta la potenza del tuo trading, tiratela fuori, tiratela fuori tutta quella che è la vostra potenza. E a proposito di Trading Power, oggi non c'è da Hitman, Angelo Ciavarella, che tornerà domani, penso domani, ma comunque insomma abbiamo un grandissimo ritorno ospite, Giovanni Lapidari. Ciao Giovanni, ben ritrovato. Con la barba lunghissima, sempre attivo, carico, quasi come se è carico te, c'è una dinamica esistenziale bellissima, un saluto a tutti i colleghi che ci ascoltano da casa. Ci sono già diversi collegati, ho visto Agostino, Max, Ago, Pina, Giuseppe e Meritovato. Ma dove la vedi tutta questa gente qua? YouTube e Facebook, tra YouTube e Facebook. Ah, ok, 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 li vedo, li vedo, li vedo, li vedo. Adesso arrivano, salutate Giovanni, dai, fate sentire tutta la vostra carica anche nei confronti di Giovanni. Giovanni, fate, dai, dai, fuori, uscite fuori tutta la vostra Trading Power. Che giornata qui, insomma, continua a essere, tranne lo ZEV, l'indice ZEV tedesco, che è stato molto sotto le attese, un meno 8%, anche qui la notizia dalla Reuters, che, insomma, qui vedete, indice fiducia, economia crolla ai minimi novembre 2012, questo che viene definito come un indicatore, anticipatore dell'andamento dell'economia tedesca nei sei mesi successivi. E quindi, Giovanni, adesso questo meno 8,2%. Se è vero che è anticipatore, cosa ci sta dicendo? Oppure, giusto un momento, i Dazi, perché comunque si legge la motivazione, sono guerra commerciale e conflitto in Siria. Come interpreti tu questo dato? Non indifferente, insomma, bello pesante, meno 8. Allora, io ti posso, ti do un'informazione, che ci sarebbe stato l'attacco in Siria, i bene informati lo sapevano da due mesi, non mi chiedere altro. Ovviamente gli industriali tedeschi, gli imprenditori tedeschi e i pensatori, i think tank dell'economia tedesca non è che sono natieri, e quindi che in Germania si attendessero che Siria e Dazi sarebbero stati presenti sul mercato, non è notizia di oggi. Di conseguenza, gli operatori sapevano che la Germania avrebbe avuto il problema di una inflazione importata dal rialzo delle materie prime. Ne abbiamo parlato anche nella trasmissione dell'altro giorno, il petrolio sta sempre a 66-67. E oggi, salvo un ritracciamento dovuto al fatto che, come segnalavano i ragazzi che mi aiutano a gestire la chat di Telegram per MyTrader Club, Mattia e Federico, che se mi ascoltano saluto, c'era sull'euro-dollaro un triangolo, per cui c'è stata una shooting a quattro ore, poi lo vedremo che tocco. Oggi abbiamo lo schema, potremmo vedere, quindi il trading power della piattaforma di Giovanni, di Giovanni, eccola qua. La piattaforma di Giovanni, eccola qua. Eccola qui, eccola qui, così fino a che vi faccio vedere. C'era, c'era, guarda, ti faccio vedere una roba, guardalo. Eccola lì. Molto vicino. Vedi che c'è questa idea. Primo piano, guardate, guardate lì, guardate lì, guardate, questo è euro-dollaro H4, quattro ore-time frame. Pip più, pip meno, ci siamo. Ti suggerisco quindi questa chiave di lettura. Materie prime forti non sono mai non accompagnate di norma da euro-dollaro debole, anzi è il contrario. Quindi lo ZEV è la preoccupazione che l'America, comunque procedendo su un rialzo dei tassi, ieri è uscita fuori una dichiarazione, mi sfugge il nome del signore della Fed, ma non è uno di poco conto, che diceva, tutto sommato, se anche arrivano quattro aumenti dei tassi, non è che la cosa ci fa schifo, questo vuol dire che loro temono l'inflazione. E voglio essere complottista, ti faccio il lapidari complottista. Lasciamo il lapidari, che a volte dicono un filosofo o poeta del trading, che è una stupidaggia, il lapidari complottista. Se è vero come è vero che dopo un 400% di ISP 509 anni, il meglio delle borse alle spalle, considerando quanto l'importanza che le borse vadano sempre a rialzo, c'è in America sui risparmi delle persone, perché con le azioni la gente ci si dà i plafond per le carte di credo, significa che in America arriverà una recessione da qui ai prossimi due anni, ci vogliono le guerre, te la dico, papale papale, ci vuole che l'industria militare tiri di nuovo di brutto, quindi l'intervento in Siria, non lasciamo stare armi chimiche, tutte stupidaggini, non c'è nulla di tutto questo, ci siamo già passati con l'Iraq, hanno bisogno della guerra per movimentare di nuovo l'economia sul settore costruzioni, infrastrutture eccetera eccetera, se no al Dow Jones li va a picco con l'aumento dei tassi, hanno fatto i bombardamenti, Europa però è un vaso di cristallo fra vasi di ferro, fratello mio, perché? Perché noi purtroppo le materie prime non le abbiamo, e come ripeterò fino alla noia, noi importiamo inflazione, quindi Zev si è preoccupato, Zev si è preoccupato, ma oggi tu dici, però abbiamo il DAX a più 0,93%, perché? Perché nonostante tutto c'è un po' troppo short in 3D in piedi, e nonostante tutto a 12,5% un DAX con un'America forte per rimbalzo, abbiamo Nasdaq sopra i 6.700, eravamo a 6.600 qualche giorno fa, c'è un rimbalzo, da chiusura di operazioni short, e da iper venduto di breve, per il momento è un rimbalzo, ma ti dirò di più, dimmi se sto sbagliando su sto ragionamento, voglio te come maestro che mi dici, Giovanni sei di fuori o Giovanni sei di dentro, perché questo ha il senso di fare... Guarda, sono d'accordo con te a prescindere, a prescindere, guarda... Ma che facciamo la trasmissione dandoci i bacini, eccetera, eccetera, i trader vogliono che i trader si confrontino, perché non hanno la possibilità di... Allora, io ti dico questo, io ti dico questo, se lo Zev è brutto, Draghi e tutti gli altri avranno voglia di aumentare i tassi? No, tanto il fatto è che l'euro scende. Di conseguenza un dato sfiducioso e sfiduciato di Zev calma un attimo Li Shao, Blai, Weidman e la parte falcona della BCE e di conseguenza il DAX, che ha tanto bisogno di avere tassi bassi, risale. Risale chiaramente poi anche l'Italia, dove ha le banche forti, con il petrolio forti, perché oggi li hanno sistemati gli NPL d'intesa, e sale soprattutto perché la volatità, quando è forte, picchia sui titoli finanziari e oggi abbiamo il V-Stocks, il future su V-Stocks a meno 7,51% e ieri abbiamo visto il VIX andare da 18,40, come ha aperto ieri, oggi è a 16,15, quindi rimbalzo da calo di volatilità, spostamento di risorse da Bund a Borse, spostamento di risorse in parte da T-Bond a Borse, spread Bund e BTP in contenimento, perché Bund oggi, BTP fa più 0,30, Bund fa più 0,03, sai che vuol dire questo? Che dal punto di vista dei flussi, c'è una generale percezione di minor rischio e percezione che se faranno la guerra, la faranno a pezzi e bocconi, di modo che da un lato il settore delle costruzioni tirerà di nuovo, ma non vogliono che la guerra faccia crolla le borse, la sparano un missilino ogni tanto, questa è l'interpretazione delle ore 14.24 di oggi, può vedersi che alle 15.34 ti arriva una bombona e noi siamo qua a dire ah Lapidari aveva detto che... No, no, c'è l'orario, quindi proprio qui fisso l'orario, siamo assolutamente rigorosamente in diretta, quindi Giovanni, tu pensi lo ZEV di oggi è servito a calmare l'euro, i falchi della BCE tedeschi a partire da Weidmann, quindi insomma è stato un po' continuare così, anche insomma un euro, ovviamente i tedeschi sono anche contenti, un discorso dell'export. È chiaro, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Secondo me la giornata di oggi si interpreta così, il mio timore è che comunque torni un'acquiescenza verso il rischio da parte dei risparmiatori, dei piccoli trader, che vedendo questa bassa volatilità continuano ad essere molto confidenti, a comprare i massimi, eccetera, eccetera. Guardavo con l'occhiolino un collega su Facebook che si chiama Mauro FX, che io ovviamente non conosco personalmente, non sapendo anche il suo cognome, che mi dice illustraci una tua strategia operativa, nelle piattaforme trading ci sono circa 100 strumenti finanziari, oggi sul DAX ho fatto dei long ma ho chiuso, a 12,513 non lo compro, di norma io l'80% dell'operazione le faccio in chiave long, quindi comprare le borse, qui non mi piace. Suggerisco invece un parere che il mio amico e collaboratore Mattia Prandoli, lasciato sulla nostra chat Telegram, dove sta seguendo USDCAD a 1,25 probabilmente MyTrader.club fa un'entrata long su USDCAD che sta in questo momento a 1,25 1,25 1,261 circa, 1,25 1,262 Perché? Perché un USDCAD a 1,25 porterebbe probabilmente petrolio e rame anche un po' su e potrebbe essere un'occasione per fare un ingresso di controtendenza pericoloso perché se guardo il grafico USDCAD è brutto che non si guarda però in questo momento più cercare di più che cercare di comprare forza noi pensiamo che sia il caso di comprare debolezza perché comprare le borse a questi livelli mi sembra un po' sto seguendo questo USDCAD e le indicazioni del mio amico Mattia perché sto notando che qui c'è un po' una discesa c'è una non c'è una divergenza questa non è una divergenza di lapidare i sentiment ma c'è qualcosa che mi fa pensare che USDCAD secondo me deve scendere ancora la mia impressione è questa e probabilmente scenderà quando l'indicatore rompe questo AX però potrebbe essere una discesa sulla quale c'è da aspettarsi una recrudescenza dei volumi perché guarda i volumi sono in calo e attenzione sulle valute amici perché c'è molti volumi in calo su tutti i cross valutari non lo vediamo soltanto sui volumi di un broker che potrebbero lasciare un po' il beneficio di inventario lo vedo in generale anche sui future sulle valute votati al Chicago Mercantile Exchange per cui no short sulle borse in questo momento ma long adesso nell'intraday è un po' pericoloso è un po' è un po' tirato cioè il DAX comunque stava a 11.800 il 4 di aprile due settimane fa si è svegliato Trump si è svegliato Trump si è svegliato Trump ha cominciato a twittare a cinguettare ha cominciato a cinguettare employment is up l'occupazione up taxes are down le tasse vanno giù enjoy divertitevi scrive ha scritto poco fa 14.24 vedete proprio in tempo reale ha scritto che poi tre minuti fa che è in Florida dove si incontrerà con il primo ministro giapponese working on trade and military security lavorando su commercio questo è comunque informatissimo veramente e beh vivo sopra poi con twitter poi vediamo contro chi looks like Jerry Brown adesso qui che poi bisogna anche interpretare i tweet di Trump so many people molte persone stanno vedendo i benefici del taglio delle tasse tutti ne parlano really nice bello da vedere effettivamente devo dire che le trimestrali anche oggi c'è stato Goldman Sachs che ha alzato il dividendo a 80 centesimi dai 75 centesimi Johnson Johnson oppure trimestrale positiva la guerra ci vuole un po' di guerra come dice Giovanni per sostenere adesso sì no no la fidare tutte le cale guerre purtroppo è una triste realtà è tristissima è una triste realtà purtroppo è la storia che lo dice anche poi da noi c'è una buona borsa italiana dovuto al fatto che si sta perfezionando in maniera divina l'inciucio alla gattopardo no sai il gattopardo la frase più famosa del gattopardo è tutto cambia perché nulla cambi no vai su da gospia vai su da gospia segui la politica italiana per quel poco che ne capisci ti metti veramente a ridere però stamattina se ti rubo un attimo la parola ti scoccia stamattina dopo guardiamo il mercato adesso però dopo vorrei fare un ragionamento su su come gestire questo momento in cui il calo della volatilità potrebbe rendere i mercati un po' noiosi volentieri oggi adesso abbiamo 95 punti sul sul dax è vero che siamo a metà giornata però attiamo attenzione che è chiaro che col vix che cala la volatilità va giù perché adesso vi faccio vedere i dati sulla volatilità media 166 punti sono le due il mercato ha cominciato alle otto quindi sono passate sei ore vedi a quattro ore la volatilità media sono 89 punti abbiamo una volatilità che si sta domesticando potremmo vedere il dax oggi chiudere con 150 forse punti range quindi sai a forza di elevare 10 punti al giorno a tornare a una volatilità intorno all'1% del prezzo che a 12,5 sono 125 punti non è che potrebbe volerci molto a meno che non partano delle bombe o altri eventi che noi non possiamo prevedere e quindi per i trader secondo me questo è un mercato che metterà di fronte i trader a parlare con se stessi e alla gestione della disciplina perché sento scivolare che tra un po' i trader faranno un po' di stupidaggini perché si annoieranno e la noia è una di quelle cose che fa perdere io non so se tu ci sei mai passato ma perdi veramente dei gran soldi con la noia e ho un'esperienza che ho saputo ieri sera da raccontarvi e poi dopo però adesso parliamo di mercati perché io sono logorroico non do nella sintesi sono anche molto più di trarre sì sì no la noia quel famoso prurito che viene al dito è pericoloso quando lì uno soprattutto per chi magari solitamente non dedica non fa trading full time e quindi magari oggi ho mezza giornata ho un'ora libera si mette lì davanti ai monitor deve per forza fare un'operazione perché ha un'ora di tempo e sono quelle le situazioni pericolose ma io ti potrei raccontare ricevo delle mail raccapriccianti neanche quando ero il più brutto lapidari mai esistito sono riuscito a fare certe cose sul denaro dovremmo trovare tre minuti per parlare di alcune cose che vorrei trasmettere ai colleghi però restiamo sui mercati quindi abbiamo detto us the cut perché potremmo aspettarci un dollaro che forse potrebbe avere voglia di salire osserverei pertanto inviterei tutti ad osservare questo grafico che proiettiamo adesso sulla piattaforma cercando di centralizzarlo il più possibile questo per chi non lo conosce il dollar index non stiamo a spiegare che cos'è il dollar index qui c'è una doppia resistenza è il dollaro su un paniere di valute su cui chiaramente l'euro conta più di altre attenzione che questo significa molto per i rapporti di cambio e guardate tirando queste due trend line già vedete che c'è questo massimo beccato dalla prima e sbucciato dai secondi e quindi cominciamo ad avere però vedete che tirando su questa trend line siamo proprio in una zona di grande importanza suggerirei anche di osservare su dollar index una divergenza strana vedi questo minimo con quest'altro minimo amico mio vedi mi si carica il lapidari sentiment temo quindi che queste vendite dell'ultima parte di dollaro che hanno portato ad acquisti di euro siano in realtà state vendute ed effettuate dalla mano secondaria e la mano primaria sta cominciando a comprare anche in questo caso con contrazioni di volumi ma i volumi in queste ultime sedute sono qua su questo livello di 89 circa 89 20 sulla zona cioè dei minimi precedenti dell'11 di aprile su cui c'è stato un flash crash ribassista prontamente recuperato temo a favore di che long di euro nel breve però nel breve perché dobbiamo procedere a pensare a lungo come un copy and call di tanti momenti di breve temo che questa sia stata un po' una vendita quasi quasi definitiva a meno che non si rompa l'importantissimo livello di 89 secco e che quindi il dollaro potrebbe attuare un recupero se il dollaro attua un recupero le materie prime scenderanno e questo potrà far scendere un poco e flettere l'euro indurire un po' le borse americane e ammorbidire un po' le borse europee all'interno di un quadro che potrebbe condurci con poca volatilità e piccoli spostamenti di flussi finanziari fra Europa, America azionario ancora per qualche 5-6 forse massimo arrivare a fine mese mentre maggio bisogna secondo me a oggi e oggi è il giorno 17 ma magari la prossima settimana quando ci vediamo ti dirò una cosa diversa vi sono abituato sempre a risettare le mie idee non essere molto religioso e molto attaccato ai miei pensieri l'unico Dio che c'è in questo lavoro è il mercato poi c'è un Dio che è fuori dal mercato a quello rendiamo conto di altre cose temo un maggio invece un po' più volatile di stare attenti Danilo che ha scritto su YouTube sto facendo trading sul DAX seguendo molte buone indicazioni del dottor Lapidari complimenti anche a te ringrazio anche ovviamente c'è della botta Danilo ma tantissimi messaggi davvero ce n'è ce n'è ce n'è io se mi annoio rompo Agostino insomma ciao Renato questo tuo amico è molto bravo io gli consegnerei i miei soldi ad occhi chiusi scrive Angelo di lì che ci comprerei soltanto bassi elettrici e chitarre elettriche per il resto li tenga così è niente bella questa è stata una missione molto serena mi piace restare con voi no no per carità li sono messi fuori li metto fuori oramai non mi faccio più scrupoli problemi se qualcuno manca di rispetto qualcuno così qui assolutamente energia e positività poi c'è Daniele un buongiorno a tutti Giovanni su che time frame operi giornalmente H4 su Forex e Commodities e indici in M15 bella domanda bella domanda io suggerirei di rispondere a Daniele cercando di fare una distinzione un conto è il time frame con cui sui vari schermi che ognuno di noi ha andiamo a settare i grafici per osservare il mercato e farci un'idea del mercato è un time frame che serve per l'analisi per l'operatività invece ognuno di noi che fa intraday cerca di entrare con quella che nel linguaggio radiofonico si può chiamare la sintonia fine l'RDS e quindi per esempio io osservo il DAX giornaliero il DAX ha volume profile sui mercati ufficiali quindi con la scansione dei volumi osservo poi il DAX a 15 minuti su base oraria e lì lo lascio sulle piattaforme dove dei volumi non mi interessa nulla premesso che non sono fanatico dei volumi più di tanto e quindi lo uso sulla piattaforma CFD di Infinox e lavoro con il DAX a un minuto barra 100 tic dove le operazioni le vado a fare sui CFD qualche volta anche sui future ma le vado a osservare con i livelli del mercato ufficiale quindi l'operatività è su time frame ridicoli strettissimi da uomo veramente fuori di testa paranoico al massimo l'osservazione deve essere fatta sulle valute l'euro dollaro e l'oro io per esempio li guardo a 4 ore petrolio rame lo guardo a 4 ore vix lo guardo a un'ora 4 ore cioè quando osservo dal giornaliero all'uno barra 4 ore quando operi devi invece cercare di entrare più chirurgico e devi avere entrambe le visioni una visione con una focale breve e una per guardare il televisore a 3 metri di distanza decisamente c'è poi altra domanda Vito 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 che scrive ciao sono short su USDCAD e long su australiano contro dollaro che mi consigliate di fare quindi short USDCAD long AUD USD non so la posizione del tuo amico ma lo short comincerei a mettere ti dico subito i livelli che vedo di USDCAD per quanto riguarda lo short vediamo la dashboard e cosa mi dice di USDCAD oggi sarebbe il caso di avere un trailing stop e più o meno cominciare a essere su questi livelli cominciare a preoccuparsi se andiamo a 1,25 e 90 lì metterei un trailing stop cioè se fossi una persona che sta osservando il grafico su cui sto ponendo il mouse per quanto riguarda invece l'Australia contro dollaro te lo piazzo qua il grafico di Australia contro dollaro ecco e lui è long giusto? ha detto il collega mi sembra long offragliano dollaro sì sì guardiamo questo grafico insieme se Vito è long non potrà non tracciare questo tipo di trend line questa trend line pone Vito di fronte a una riflessione che se prendo questa trend line la duplico cioè faccio in modo di creare un canale direi a Vito di cominciare a riflettere sul fatto che questa trend line mostra un canale che non è più armonico nel senso la proiezione della pendenza che unisce i minimi non è la stessa che fa sì che questo massimo questo vada qua sopra sembra che questo massimo è un po' sforzato tanto infatti che vedi che anche il lapida risentimento l'ha sentito e nella fase di congestione si è fermato è partito uno short a 0.77 a 0.77 io credo che questo potrebbe essere ancora un segnale acerbo che non chiude il long ma che se guardiamo il canale se guardiamo la posizione degli indicatori pone una riflessione che questa riflessione è che qui c'è una compressione di volatilità sui triangoli questo è quanto fare attenzione fare attenzione poi Gerardo dice ci fai vedere la postazione internet è impossibile è come faccio fisicamente dovrei prendere aspetta dai facciamo una prova facciamo una prova facciamo un gioco questa è la mia postazione internet c'è un po' di schermi come vedete dai giochiamo c'è una prova qui c'è uno schermo staccato qui ci sono degli altri schermi 8 monitor 8 monitor 8 monitor 8 monitor vedete che è vero che racconta è tutto vero assolutamente assolutamente è la verità se se sposti adesso l'inquadrature se non adesso visto che oramai siamo tra amici ecco così benissimo guidami come ti pare io faccio tutto quello che mi dici te sposta leggermente un po' più verso vediamo così perfetto perfetto adesso dovrei rifare tutte le scene grazie 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 Giovanni Max che chiede euro gbp con questa sterlina effervescente questa sterlina che euro gbp ovviamente si è debolito euro contro sterlina ovviamente allora eccolo qua stendiamo molto forte attenzione qui c'è un triplo minimo questo deve scendere ancora quindi ancora stendere da stare attenti non stare attenti praticamente quindi euro gbp conferma quello che è il trend della sterlina sterlina che il 10 maggio dovrebbero alzare i tassi di interesse quindi solitamente può ancora può ancora può ancora scendere può ancora scendere sembra sembra insomma che potrebbe esserci spazio anche perché la sterlina ha toccato i massimi contro dollaro praticamente da quando c'è stato brexit dopo il crollo brexit dopo quel lune 20 quel fat finger del 7 ottobre o 9 ottobre se non ricordo quei due minuti tra l'1 e 07 ragazzi la sterlina è ancora forte non andrei short sulla sterlina starei un po' attento quindi non solo contro il minimo secondo me non tiene non tiene questo deve ancora scendere e può darci che lo farà lo farà a breve bene bene poi qualcos'altro ancora Daniele buongiorno a tutti questo abbiamo già un risposto visto le strategie che operi se abbiamo un surplus positiva di volatilità entriamo short e viceversa gli ho risposto viceversa allora quando la volatilità aumenta di norma è molto provvisorio l'aumento della volatilità sui long perché normalmente la volatilità quando il mercato strappa via strappa per ricoperture le ricoperture sono i piccoli trader che devono chiudere le loro posizioni noi abbiamo meno soldi abbiamo meno contratti si fa prima in senso temporale a farci buttare fuori dal mercato ci buttano fuori in un attimo invece quando il mercato scende bisogna stare più attento perché da un lato scende per gli stop loss nostri ma le discese possono avere una volatilità progressiva e quindi lì bisogna lavorare con i multipli pertanto in intraday sul mercato bene misurare sugli indici la volatilità oraria e lavorare e comprare quindi andare in contotendenza preferibilmente quando su base oraria ad esempio come facevamo come guardavamo prima sul DAX se la volatilità oraria è addirittura di 44 punti è molto bassa comprare discese di 85 120 130 punti cioè comprare discese significative tipo oggi l'apertura di oggi mi sembra che sia quella di ieri 12 520 12 388 140 punti sotto della volatilità di ieri è stata comprata cioè vedi sono tutti multipli di eccessi l'altro giorno ha fatto 530 è stato ricomprato 400 altri 130 punti vedete che sono tutti quasi multipli di 3 volte 40-45 punti nell'intraday lavorerei a blocchi di 25 25 22 23 punti per comprare osservando con grafici a 15 minuti su grafici orari blocchi di questo genere poi tra le altre cose a proposito di tutto quello che ci stai spiegando anche le strategie gente che giustamente chiede anche strategie con Infinox c'è un bel programma di webinar di cui alcuni sono già partiti possiamo vedere che i due li abbiamo fatti fra l'altro inizialmente era stato pensato di farli un po' per i clienti un po' per i non clienti no no ma vai a quel paese tutti liberi tutti free ah quindi tutti free ci stai dando questa news infatti vedete quindi anche se leggete 26 aprile solo per Infinox clienti quindi anche il prossimo appuntamento è gratis dimenticati di cancellare adesso bisogna chiamare Davide e Angelo tutto free tutto free quindi vedete già ci sono stati due appuntamenti come fare trading sul DAX base come operare sui mercati insomma vedete ricco 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 l'appuntamento quindi il prossimo 26 aprile con Marco Tosoni e poi 30 aprile ancora vedete insomma davvero per approfondire tutto quello che praticamente vi stava dicendo adesso il buon Giovanni quindi trovate Australia contro Yen attenzione che l'Australia è debolina e lo Yen che di base sto guardando una domanda che mi fanno su YouTube che lo Yen comunque parliamoci chiaro non è che lo Yen è debole attenzione non pensiamo all'Oyen è debole perché le bolse salgono allora USD Yen sale è il dollaro che sale non è tanto lo Yen che scende cerchiamo di ragionare tanto infatti che se guardi Euro contro Yen Euro contro Yen oggi è debole cioè gold pure che sta spingendo noi minimi del gold 1338 quindi lui è sciato dal zona 84 il collega si mette a uno stop a mio parere a 83,47 e vado in tre lingue stop con un obiettivo io personalmente sull'obiettivo di Australia contro Yen sto leggendo un po' anche le domande andrei out massimo massimo 82,90 se no 83,20 chiuderei 83,15 già fatto 82,90 dai si sono registrati i webinar su Influx e c'è un gold che sta spingendo il risk on sarà il risk on perché tutto sommato il resto degli asset li vedo tranquilli cioè Euro si siamo sui minimi di giornata sterlina guarda gold strutturalmente in questo momento sta scendendo perché a 1338 ha rotto malissimo 1346 e quindi questo 1346 lo vado a cercare perché sul monitor non c'ho tutti gli strumenti eccolo qua te lo metto qui sopra tac 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 gold gold ha rotto male 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 la trendline è questa questa è la rottura guarda dove si rompe la trendline sul prezzo e guarda dove rompe il lapidare i sentiment qua il prezzo rotto è 1342 scendiamo da 1350 42 sono 8 punti 42 meno 8 dovrebbe fare 34 target 1334 ma anche 1336 nell'intraday grande supporto c'è a 1332 poi c'è un 1330 tondo che è tanta roba però direi che i supporti importanti sono 34 32 30 si va per due in due perfetto più di così insomma guardate questo è 3D power telefoni che squilano telefoni che squilano mail che arrivano amici che chiedono consigli informazioni noi non ci siamo fatti la barba apposta tra l'altro ti hanno fatto il complimento anche con la barba c'è Andrea per l'amico carissimo che c'è sempre tagliare la barba Andrea che dice target long GBPUSD 145 50 chi interessa il suo target quindi Andrea ci stai dicendo quindi oggi direi che bisogna Serena sta 1 43 22 io vi do i livelli della dashboard in automatico 43 54 46 43 60 43 87 44 28 44 62 lui ha dei target secondo me che non sono validi per oggi che potrebbero siccome una stellina è bella forte non va negato assolutamente essere target da raggiungere per la settimana domani giovedì vediamo i dati senti qualche informazione sulla lapidari dashboard come è possibile perché vedo qualcuno che lo chiede insomma come poterla avere come si può allora se mi scrivi allora io ho no no si può avere è un prodotto che viene venduto quindi deve avere tutte le informazioni c'è una playlist sul nostro canale youtube sia sul mio che quello di maitrade.club c'è un manuale di istruzioni c'è l'apidari che ti risponde alle mail è una macchina che ti mostra nell'intraday cosa sta succedendo sul mercato ti segnala livelli di entrata automatici ti dà le posizioni degli istituzionali con il loro stop o trailing e stop dice se stare in trend oppure ridurre oppure stare attento e uscire fino a 40 strumenti finanziari diversi funziona benissimo con la piattaforma di infinox funziona bene altrettanto con altre piattaforme gli altri broker offre anche segnali statici daily settimanali e mensili offre un tasto per chiudere tutte le operazioni aperte quindi in realtà più che una macchina un'estensione di metà a terra del quadro che ti permette di completamente non aver bisogno di vista del mercato chiude close extra tutte le operazioni che vuoi chiaramente puoi anche dirgli dimmi se lo vuoi con una conferma o meno la prossima versione darà degli automatismi sempre se il cliente vuole la macchina non fa le cose da sola fa le cose se tu gli dici fai anche questo per cui in realtà ti dà la possibilità per esempio di bellissimo ti torni in intraday adesso vogliamo che si rifresci perché se un attimo la nostra trasmissione ci mangia un po' di risorse però ti dà la possibilità addirittura di pigiare sui tasti della macchina e mandare via ordini manuale quindi questo significa per esempio ecco siamo tornati nell'intraday bellissimo show level e vedi adesso possono essere ti mette tutti i livelli tecnici direttamente cioè della serie non hai bisogno di lapidare i sentiment mi cannibalizza uno dei miei prodotti più belli è una macchina che ti manda direttamente nel cestino lo stocastico l'RSA e tutte le diavolerie che mettiamo prezzi belli trend e tendenza lavora con algoritmi di volatità c'ha dentro un codice di 8500 righe è una roba da guerra è una roba da guerra se volete fare la guerra questo è l'elmetto per voi la figata spaziale fantastico 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 siamo in chiusura di cosa volevi parlare concludere quindi con qualche riflessione è un mercato religioso è un mercato che combatte la noia ieri mi chiama un mio amico mi dice ho perso 350 euro con un broker di forex mi dice il nome ma anche lo conoscevo e ho detto perché hai aperto un conto era 500 euro e adesso c'è 150 euro ero a casa guardavo la televisione non ero contento della mia vita mi annoiavo cosa significa che il mercato non volatile il mercato volatile espone alla paura il mercato volatile espone alla noia tutte le sensazioni che hanno le persone quando non sono realizzate quando usano il denaro per avere un'affermazione della vita che va a toccare i livelli dell'autostima personale allora domandatevi perché chiedete ai soldi di fare per voi delle cose che hanno nulla a che fare con la vostra realizzazione personale con la vostra autostima col concetto che avete di voi stessi o che pensate che gli altri abbiano di voi e domandatevi se è quello che probabilmente sta succedendo nel vostro inconscio perché ci sono delle cose da risolvere che hanno nulla a che vedere col trading ma che hanno molto a che vedere a con l'educazione che avete ricevuto giusto sbagliate che sia i nostri genitori hanno fatto il massimo che potevamo fare e con l'esperienza la nostra vita Dio non vuole che andate a cercarevi dei problemi perché ve li andate a cercare io ve lo dico essendo stato uno molto bravo a cercarci i problemi sono stato bravissimo purtroppo si prendiamo tutti a complicarci la vita invece bisogna semplificare semplificare e desiderare quello che si ha quello che si ha quindi insomma in modo tale che senza stare a questa ricerca del bisogno soddisfare i bisogni bisogni nuovi che la società poi ci mette dentro e quindi insomma che prima non c'erano e adesso invece non si può più fare a meno di quella cosa lì quell'altra lì la signora Chiara dice che va a fare il bucato bravissima io non so fare il bucato carico la lavastoviglie no no questa la metti in onda perché Chiara che saluta che saluto ovviamente bellissimo bellissimo io non so fare il bucato faccio la lavastoviglie grande Chiara faccio altre cose grande Chiara un abbraccio un abbraccio ovviamente a Chiara non gira su MT5 rispondiamo a Igor l'ultima domanda no non gira su MT5 la faremo girare su MT5 ma ancora ci sono due anni prima che venga la MT5 e con calma dobbiamo cambiare tutti i codici eh sì anche perché oramai quello è il trend lì stanno spingendo verso la MT5 così verso la MT5 così pare va bene direi che è stato come sempre un appuntamento molto molto interessante grazie a Giovanni con la barba e quindi insomma ringrazio ringrazio tantissime persone davvero collegate che stanno ancora scrivendo grazie Giovanni torna torna assolutamente avremo modo di risentirlo in questo appuntamento con Trading Power grazie 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 di cuore Giovanni grazie a te grazie di cuore a te grazie a te un abbraccio a tutti ciao ragazzi appuntamento nuovamente con Trading Power grazie domani domani 14 e 15 grazie a te grazie a te grazie a te